Musica Turbativa d'asta, abuso d'ufficio, corruzione al porto di Napoli, quattro misure interdittive da parte del luglio di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Tra gli indagati spicca il nome di Luciano D'Assatti, commissario straordinario dell'autorità portuale e del suo stretto collaboratore Stefano Porciani. Arrestato Cipriano Chianese, l'imprenditore legato al clan dei Casalesi per conto dei quali ha inventato e gestito il traffico illecito dei rifiuti confluiti anche nella terra dei fuochi. L'avvocato imprenditore commissionò per un milione di euro l'omicidio di un magistrato della DDA di Napoli che stava indagando sul suo conto. Sindaco, sovrintendente e ministro continua la bagarre su piazza del plebiscito, De Magistris accusa per la chiusura della piazza, Cozzolino si difende dal comune, nessun progetto. Il ministro Brahe dribbla le domande e strizza l'occhio alla soprintendenza. Impresa Champions per il Napoli, stasera al San Paolo gli azzurri tentano di superare di misura l'Arsenal. In dubbio Reina ci sarà Berami. Buongiorno dalla redazione di Otto News, ben trovati all'appuntamento di metà giornata con la nostra informazione. E dunque, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, corruzione al porto di Napoli. Quattro le misure interdittive emanate dal nucleo, eseguite dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, su ordine della magistratura partenopea. Tra queste spicca il nome del commissario Luciano D'Assatti e anche del suo stretto collaboratore Stefano Porciano. Capiamone di più nel servizio di apertura. Un ciclone travolge il porto di Napoli. All'alba il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza ha notificato quattro misure interdittive e, tra gli indagati, spicca un nome illustre, quello di Luciano D'Assatti, presidente dal 2009 al 2013 ed ora commissario straordinario dell'autorità portuale. L'ammiraglio, fresco di proroga della nomina di sei mesi, non è l'unico a finire nel mirino della giustizia. Gli altri avvisi sono stati notificati a Stefano Porciani, suo braccio destro, e l'imprenditore Pasquale Legora Defeo. Le indagini condotte dal procuratore aggiunto Francesco Greco e dal PM Antonella Fratello si muovono nel campo degli appalti nel porto. I reati ipotizzati sarebbero turbativa d'asta, abuso d'ufficio, corruzione. In sintesi, ci sarebbero stati favoritismi nel veicolare appalti all'interno del porto e irregolarità nella gestione di soldi e auto pubbliche. Una nuova tegola dunque per l'ammiraglio D'Assatti, che solo pochi giorni fa ha dovuto subire la forte contestazione di dipendenti e dirigenti dell'autorità portuale, che ne hanno chiesto a gran voce le dimissioni, dopo una dura intervista con un quotidiano locale. Ed è stato arrestato ieri Cipriano Chianese, di 62 anni, l'imprenditore legato al clan dei Casalesi, per conto dei quali ha inventato e gestito il traffico illecito dei rifiuti confluiti anche nella terra dei fuochi. L'avvocato imprenditore commissionò per un milione di euro l'omicidio di un magistrato della DDA che stava indagando sul suo conto. Giuseppe Porzi Certo, non ha fatto tutto da solo, ma se oggi si parla di terra e dei fuochi, se oggi non si contano più le morti per patologie tumorali, in questo territorio ferito bisogna ringraziare, si fa per dire, l'uomo ritratto in questa foto. Si chiama Cipriano Chianese, ha 62 anni, è un avvocato, un imprenditore, un uomo legato a doppio filo con la camorra dei Casalesi, Chi ha chiesto e ottenuto oggi che sia chiuso nelle patrie galere lo ritiene il re delle eco-mafie in Campania. Stereotipo per eccellenza dei colletti bianchi della malavita chianese viene indicato come colui che ha ideato e organizzato il sistema di smaltimento dei rifiuti tossici industriali interrandoli nelle nostre terre. Le manette sono scattate stamattina dagli uomini della direzione investigativa antimafia. Lo ritengono mandante, regista, insieme ad altri, parziale esecutore nelle attività che nel dicembre 2005 portarono il clan dei Casalesi, tramite il fratello di Chianese, ad acquisire quote e gestione della società di trasporto Meritrans e del relativo complesso aziendale. Ma c'è dell'altro. Dall'ordinanza emerge che Chianese avrebbe commissionato per un milione di euro l'omicidio di un magistrato della direzione distrittuale antimafia di Napoli che stava indagando sul suo conto. A rivelarlo è stata la persona incaricata di eseguire quel delitto, oggi collaboratore di giustizia, che sostiene di non ricordare il nome del magistrato da eliminare. Al pentito si rivolse per conto di Chianese Carlo Verde, 37 anni, anche lui arrestato oggi dalla DIA. Ma quel gennaio del 2006 Chianese fu arrestato e non se ne fece più nulla. Fino a stamattina l'imprenditore dei Casalesi era ai domiciliari. Proprio così, l'uomo che ha distrutto la Campania Felix era agli arresti domiciliari per altre vicende. L'inchiesta di oggi è l'epilogo di un'indagine che fu già archiviata, ma che è stata poi riaperta nel 2011 sulla base delle dichiarazioni di un altro pentito. Candidato alla Camera nel 1994 con Forza Italia, originario di parete, Cipriano Chianese ha gestito la discarica Resit, la cui bonifica, ancora oggetto di studio, vanta costi milionari. Lungo e tormentato l'iter giudiziario di quest'uomo, fu arrestato per la prima volta nel 1993, accusato di associazione mafiosa con altri 20 imprenditori del settore dei rifiuti. Un'indagine, quella che mise in luce l'appoggio fornito dalla Camorra ad alcuni candidati nelle elezioni politiche e amministrative che si erano detti favorevoli ad autorizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti del napoletano e a ricevere, in piena violazione delle norme, i rifiuti solidi urbani extra-regionali. Il processo si concluse con molte condanne. Chianese fu assolto. Anno 2005, nuovo arresto contestuale a un sequestro di beni. L'accusa non differiva di molto dalla prima, aver fornito sostegno ai casalesi. L'anno successivo gli inquirenti accertarono che una società riconducibile a Chianese aveva acquistato, con intermediazione di due boss, l'area sulla quale sorgeva un impianto di smaltimento dei rifiuti. Fu il primo caso di rinvio a giudizio per disastro ambientale ed avvelenamento delle falde acquifere. Il procedimento è ancora in corso. Due componenti della banda del buco sono stati sorpresi e arrestati dalla polizia a Napoli mentre scavavano un buco su un muro perimetrale confinante con la rete fognare sottostante le filiali dell'agenzia Credem del Banco di Napoli e del Monte dei Paschi di Siena nella centrale Via Foria. Poliziotti sono intervenuti dopo una telefonata che ha segnalato la presenza di una luce accesa in un terraneo che si trova proprio alla profondità di 5 metri. I ladri sono stati sorpresi mentre scavavano su un ponteggio. Due sono stati bloccati mentre una terza persona, diesile e corporatura, secondo le testimonianze, è riuscita a sfuggire all'arresto infilandosi proprio nel buco. Le due persone arrestate sono Vittorio Rapuano di 49 anni che ha anche ingaggiato una colluttazione con i poliziotti e un ucraino di 29 anni che è stato raggiunto dagli agenti dopo una breve fuga. La polizia è adesso ovviamente sulle tracce del fuggitivo. La protesta dei Forconi. Terzo giorno, una protesta che si è avuta ovviamente anche a Napoli. Ieri momenti di scontri e di tensioni forti ma dal movimento proprio dei Forconi arriva anche un'accusa ai napoletani. Dicono, li aspettavamo in piazza, la nostra è una lotta che riguarda il futuro di tutti. L'azienda Parlamento è fallita, chiuso. L'azienda Parlamento è fallita, vi licenziamo. Sono tornati in piazza gli aderenti al movimento dei Forconi che hanno tentato di bloccare la circolazione in piazza Carlo III a Napoli per distribuire ai cittadini, per la verità poco, partecipi alcuni volantini con tutte le motivazioni della protesta. Sono 20-25 anni, abbiamo rovinato i giovani, noi li abbiamo rovinato noi, con l'opachità della nostra maturità, pensionati vecchi e vecchi come età. Ma questi giovani che ci abbiamo lasciato questa eredità, questa eredità, cosa facciamo noi? Pochi attimi di tensione tra le forze dell'ordine e i manifestanti, tensione rientrata quando gli agenti hanno rinunciato all'assetto antisommossa tra gli applausi dei presenti che hanno dirottato la loro rabbia proprio sulla scarsa partecipazione dei napoletani. Dateci una mano, scendete in piazza. Il problema non è solo il nostro, il problema è di tutti, scendete in piazza. Sono una cosa a tutti i cittadini napoletani, no? Come vanno allo stadio? Vengono anche a piazza Carlo III a manifestare. Il risultato della mattinata di protesta è stato un rallentamento della circolazione in piazza Carlo III, snodo viario importante per l'accesso al centro cittadino. La contestazione è rientrata senza ulteriori problemi, ma la tensione tra i manifestanti resta alta. Oggi stiamo per strada a cercare di mantenere buona la gente, perché c'è gente che vi vuole mangiare viva, non vi rendete conto. L'italiano non ce la fa più, quindi in ginocchio vi preghiamo andate a casa, non fateci venire a Roma. Lasciate i nostri palazzi. Ti cacciamo noi, andate. Ti devi dimettere da viceministro, lo ha detto anche Matteo, chiamalo. Così Pina Picerno, apostrofato in pieno transatlantico, gremito per il voto di fiducia, Vincenzo De Luca. E i due, entrambi sostenitori del sindaco di Firenze, hanno batti beccato a lungo sotto gli occhi attoniti di deputati e giornalisti. Al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, però non va di prendere lezioni di legalità da nessuno. Per questo non ha preso bene l'esortazione rivolta ieri in tv dalla neoresponsabile del PD sulla legalità, appunto Pina Picerno, di optare tra l'incarico di sindaco e quello di viceministro alle infrastrutture. De Luca ha quindi affrontato in pieno transatlantico la giovane deputata Campana, che però non si è fatta intimidire. Ha fatto presente al sindaco che anche il neosegretario nazionale del Partito Democratico, Matteo Renzi, sindaco di Firenze, si è già espresso pubblicamente perché De Luca metta fine al doppio incarico. Da una polemica all'altra, dal PD di Salerno al comune di Napoli, dove la polemica continua a montare per quanto riguarda Piazza del Plebiscito. Una piazza che non è illuminata, che molto probabilmente sarà interdetta all'uso per le tradizionali festività di San Silvestro. L'ira dei commercianti si è già abbattuta proprio sul comune di Napoli e adesso la bagarre continua tra le istituzioni, in primis tra il sindaco di Napoli, tra il sovrintendente Cozzolino e poi anche con il ministro Brai. Sentiamo. Se il sindaco attacca, il sovrintendente scarica il ministro dribla. Al centro della bagarre istituzionale c'è Piazza del Plebiscito. Orgoglio e vanto di Napoli, la piazza è teatro di megaconcerti ed eventi. Da giorni è però al centro dei rimbalzi tra il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che vorrebbe una piazza aperta e fruibile, il sovrintendente ai beni architettonici di Napoli, Giorgio Cozzolino, che impone le regole ma dice non nego il divertimento a nessuno, e il ministro ai beni culturali, Massimo Brai, che dribbla l'argomento ma strizza l'occhio alla sovrintendenza. Per De Magistris le piazze vanno vissute e dai tempi di Garibaldi che la piazza è aperta, solo con me invece vincoli rigidissimi. La stoccata è al sovrintendente Cozzolino, che ribadisce però di non voler negare il divertimento a nessuno, purché si stia dentro le regole. Devo pensare alla tutela e al decoro dei monumenti, e non è certo responsabilità della sovrintendenza se la piazza è buia e se salta il concerto di San Silvestro, aggiunge rispedendo ogni addebito al mittente, e sottolineando che il comune di Napoli non ha presentato alcun progetto. Non capisco, chiosa Cozzolino, perché mi si vogliono addossare responsabilità che non ho. A poter mediare potrebbe essere il ministro Brai, a cui De Magistris ha chiesto espressamente di intervenire con il sovrintendente, ma Brai dribbra la domanda. Per quanto riguarda i beni culturali e per quanto riguarda l'usufruire dei beni culturali, nel nostro caso parliamo a Piazza Le Biscite di quella polemica, come vanno usati? Il ministro assicura comunque di non essere un ostacolo e chiama in causa la Costituzione, che sancisce, cita, il dovere di tutelare i monumenti. Insomma, tra accuse, rimbalzi e dribplate, a rimetterci sarà la piazza al buio e senza festa, con cattiva pace di cittadini, turisti e commercianti. E restiamo ancora al comune di Napoli. Il Tar aveva accolto il ricorso proprio di Palazzo San Giacomo al decreto sul Limo, stabilendo nella sospensione in attesa della sentenza che sarà emessa entro il 16 di gennaio, ma il pagamento dell'imposta sulla casa scatta ugualmente, anche se con riserva, e si tradurrà in una stangata da 34 milioni di euro per i napoletani. Il Comune ha pubblicato l'avviso in cui si comunica ai proprietari di prima abitazione che proprio tra oggi e il prossimo 16 di gennaio dovranno pagare una mini-tassa, in media una cinquantina di euro a famiglia, per compensare la mancata copertura del gettito IMU del 2013. Per ora dunque si paga, ma i soldi potrebbero essere restituiti. L'avviso sul saldo IMU è un atto amministrativo dovuto, ha spiegato l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Salvatore Palma, ma contiamo di farci erogare dallo Stato anche 34 milioni di euro di copertura IMU che al momento non ci sono stati assegnati. E questa mattina è saltata la riunione del Consiglio Comunale di Napoli per l'assenza del numero legale. In aula presenti infatti soltanto 22 consiglieri su 48. l'aula avrebbe dovuto discutere una seduta monotematica sul dissesto idrogeologico. La Napoli Servizi, la società che si occupa di servizi di gestione proprio per il Comune Partenopeo, annuncia adesso un nuovo incarico, ovvero la gestione proprio del patrimonio del Comune di Napoli. Si occuperà di alcune attività strategiche come la pulizia delle strade, la derattizzazione, la manutenzione delle aree verdi e soprattutto, ecco la vera novità del rinnovo, della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Questi i compiti della Napoli Servizi S.p.a., la società in house dell'ente di Palazzo San Giacomo che ha rinnovato la convenzione con l'amministrazione comunale. Il nuovo accordo avrà una durata quinquennale, cioè dal 2013 al 2018, e prevede una dotazione finanziaria per la Multiservizi di 68,5 milioni di euro all'anno. L'amministratore delegato di Napoli Servizi S.p.a., Dario Scalella, ha spiegato gli obiettivi per i prossimi cinque anni. Si apre una nuova pagina di questo rapporto fra l'amministrazione e Napoli Servizi che poggia su delle sfide che io definirei esiziali per questa amministrazione. Dal patrimonio alle strade, ai giardini, alle scuole, Napoli Servizi viene in qualche maniera riconosciuto come una sorta di hub, di smaltimento di quelle che sono le principali necessità del Comune di Napoli. Per ben cinque anni, quindi due anni più di prima, e con un quantitativo economico che sostanzia queste aspettative da parte dell'amministrazione che ci metterà in contatto con le possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. E oggi qui racconteremo come molti di questi obiettivi, passata la fase iniziale tipica del buon padre di famiglia, si arriva, si taglia un po', si riorganizza. Ora questi servizi saranno sostanziati anche su un livello completamente diverso di interazione tecnologica dell'azienda, fino alla possibilità di gestire per esempio i rapporti col cittadino. Quello che racconteremo oggi del portale per i PIS, il pronto intervento strade, mette in contatto il cittadino con le nostre attività. Quindi il cittadino, oltre all'amministrazione, a breve potranno vedere quelli che sono i nostri interventi in giro per la città. Nel corso della conferenza sono stati presentati anche i risultati del progetto Tirocini Formativi, che ha coinvolto una ventina di ragazzi provenienti da diverse università partenopee e che al termine del percorso di studi ha portato molti di loro ad ottenere un contratto di lavoro con i soggetti con cui hanno svolto lo stage. Bloccata l'attività didattica in tutte le scuole fregree e a provincia di Napoli per la protesta dei lavoratori socialmente utili che manifestano per i tagli economici previsti dal nuovo contratto di lavoro. Questa mattina è stato interdetto a studenti, docenti e personale non docente l'accesso nelle sedi scolastiche di ogni ordine e grado occupate da lavoratori che attraverso cooperative garantiscono da oltre dieci anni il servizio di pulizia. La protesta coinvolge circa 400 LSU della ditta Team Service che opera su tutti e quattro i comuni Flegredi, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. I lavoratori respingono le proposte di rinnovo del contratto con una forte diminuzione dell'orario di servizio da 35 a 20 ore con relativo abbattimento delle corresponsioni economiche e chiedono soprattutto la conferma integrale del contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo. Il rilancio del porto di Napoli affinché torni ad essere crocevia per il Mediterraneo, un rilancio che passa dunque anche il controllo delle merci in entrata e in uscita e attraverso la difesa da parte di tutti del patrimonio ittico del mare che bagna Napoli e quanto affermano l'assessore comunale all'attività produttiva Enrico Panini e il capitano di Vascello, Aniello Cuomo, a margine della presentazione proprio del calendario della capitaneria di Porto di Napoli. Giuseppe Porzio. Allora, assessore, intanto ricordiamo che Napoli è una città portuale. A volte si dimentica, l'economia passa anche e soprattutto da questo crocevia. Per tanto tempo è stato un po' messo da parte. Lo sviluppo non può prescindere dal porto di Napoli. Lei ha ragione, nel senso che la prima industria di Napoli è il porto e la città e il porto vivono come separati in casa. Non va bene. Significa affrontare il tema del mare, affrontare il tema dell'anticontraffazione per i prodotti, il controllo delle merci, la qualità delle merci. Significa avere un porto efficientissimo che sdogani nel più breve tempo possibile i traffici in modo da diventare un vero ponte fra i paesi dell'Africa in modo particolare, l'Europa e il Nord Europa in modo specifico. Significa affrontare i temi del rapporto fra la nostra città e città rivierasche che hanno una questione che è quella della crescita, del lavoro, dell'occupazione. Significa essere davvero la capitale del Mediterraneo. Futuro che passa anche per la sicurezza di queste acque. La capitaneria di Porto fa un gran lavoro, c'è bisogno di sinergia, c'è bisogno di avere un mare sicuro perché si attragano anche investimenti. Quando parliamo di mare sicuro parliamo anche di tenere fuori le attività illecite troppo spesso in odore di malavita organizzata. Guardi, sul porto, sul mare agiscono tante competenze. Devo dire competenze fatte di donne e di uomini straordinari dal punto di vista della professionalità. Ma c'è oggettivamente una sovrapposizione che in molti casi può determinare paralisi e incertezza. Noi abbiamo bisogno su questo versante di una semplificazione che non significa ridurre le norme o i controlli ma significa assumere il tempo e la qualità del tempo come un valore che ordina tutto il resto. Da questo punto di vista la lotta alle merci che arrivano in Italia e che non vanno bene perché sono contraffatte, perché non rispondono ai requisiti, perché sono merci criminali. È una lotta che viene prodotta in modo efficace dalla nostra dogana, dalla Guardia di Finanza, ha bisogno di implementazione. C'è un tema che riguarda la pulizia del nostro mare. È un'iniziativa che nasce proprio dalla funzione che noi abbiamo, che non è un'attività di pulizia fino a se stessa, ma un'attività anche di accompagnamento per un ceto che è molto importante per la nostra economia e che a volte viene un po' dimenticato. Ma si associa anche a ragioni di tutela ambientale, di tutela ecologica, perché è da anni che l'Europa e l'Italia in particolare si muove per cercare di mantenere gli stocchi ittici a un livello accettabile. Queste iniziative servono a far capire che è importante la tracciabilità, ma è importante che il pescato rientri nelle norme previste. Perché? Perché la funzione di tutela dell'ambiente serve ad assicurare anche agli altri la possibilità di poter ancora disporre di un patrimonio che si va a decoeperare. Il porto di Capri, teatro di un'esercitazione antincendio coordinata dalla Capitaneria, fiamme finte, a bordo di un traghetto della Caremar, ormeggiato proprio presso la banchina principale del porto di Marina Grande. Questo è lo scenario dell'esercitazione coordinata dall'ufficio circondariale marittimo di Capri per testare i tempi di intervento delle squadre di soccorso, l'addestramento degli equipaggi, l'efficienza dell'impianto antincendio e la gestione delle attività in emergenza. Un laboratorio di partecipazione civile, quello che sarà inaugurato venerdì 13 dicembre alle ore 19.30 a Bulla, dove nasce Immischiamoci. Il primo incontro è rivolto a coloro che vogliono riappropriarsi della cosa pubblica, occuparsi di politica, partecipare attivamente alla vita politica e non votare in maniera clientelare o per appartenenza ad uno schieramento. Ancora chiedere conto agli amministratori del loro operato, scrivono in una nota gli organizzatori. Saranno proposti poi una serie di incontri formativi ed informativi sui temi quali il bene comune, la partecipazione e la famiglia. Un albero riciclato, un albero con la plastica riciclata, è quello donato dagli studenti dell'Istituto Pascoli alla Regione Campania. Gli studenti sono quelli che hanno vinto il progetto proprio di riciclo. Quest'albero di Natale è interamente realizzato con materiali riciclati. A donarlo al Consiglio regionale sono i ragazzi della Scuola Media Giovanni Pascoli di Aversa che si è giudicata, il premio Riciclare è Bello, promosso dall'Assemblea Legislativa Campana con l'obiettivo di favorire la cultura della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti a partire proprio dai più giovani. La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Paolo Romano, che ha voluto esporre albero e i vari addobbi natalizi nella sala stampa del Consiglio affinché abbiano la massima visibilità. Stamattina viene lanciato un messaggio importantissimo, soprattutto da un'area, una zona, una città che in questo momento rappresenta un po' il centro di quello che riguarda la terra dei fuochi. È dalle scuole elementari, dalle scuole medie, dai ragazzi della loro età che deve partire il segnale più importante. Io penso che non poteva esserci segnale più forte e importante per tutta la comunità perché ci hanno fatto capire che i rifiuti e una parte dei rifiuti possono essere una risorsa. L'iniziativa pone in evidenza la sinergia tra istituzioni e mondo scolastico, una collaborazione protisa al rispetto dell'ambiente e che ha visto un'ampia partecipazione degli studenti come spiega la responsabile del progetto, la professoressa Maria Di Santi. La partecipazione è stata totale perché tutti gli alunni ci hanno aiutato a tagliare le bottiglie di plastica, quindi ci hanno aiutato tantissimo, ma non solo, si sono divertiti e hanno capito che in effetti il riciclaggio è una cosa fondamentale. Ed è questo il nostro fine, il nostro scopo, far capire ai ragazzi che è importante la raccolta differenziata e quindi il riciclaggio. Noi l'abbiamo riciclato, abbiamo riutilizzato le bottiglie di plastica. L'associazione Napoli in movimento con il patrocinio del Comune di Napoli in collaborazione con la Caritas presenta Natale a Fuorigrutta 2013. A Natale siamo tutti più bambini. Lo scopo dell'iniziativa è di regalare un giorno di informazione, intrattenimento, spettacoli e momenti interamente dedicati ai bambini e inoltre a sensibilizzare le famiglie ad argomenti di grande importanza. All'interno della manifestazione ci saranno momenti di solidarietà nei confronti delle famiglie meno agiate del quartiere per regalare a tutti un Natale felice. Organizzazioni, discoteche, attività commerciali, tutti saranno impegnati nella raccolta dei doni da mettere a disposizione dei bambini di fuorigrotta. Tra i vari punti di raccolta, la renile, la parrocchia del Buon Pastore, la scuola Leopardi, la pizzeria Oliva Alvomero che regalerà tre cene e sole ricevimenti che invece regalerà un banchetto alle famiglie povere. E ci occupiamo adesso di ambiente, dell'ambiente da tutelare, così come nel progetto voluto da Coripet in accordo con la Deku. Una filiera chiusa della plastica. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa ormai avviata da tempo che mette insieme il Coripet e i supermercati Deku e che permette il recupero della plastica PET riempiegata per la produzione delle stesse bottiglie. Opportunità resa possibile a seguito dell'entrata in vigore della recente normativa europea sull'utilizzo di materiali riciclati nell'industria alimentare. In pratica il consumatore portando la bottiglia usata a Deku Super Marpet ha l'opportunità di chiudere il cerchio che ha aperto con l'acquisto. Le bottiglie di PET che hanno contenuto minerali soft drinks, latte o anche la passata di pomodoro vengono inserite in questa macchina e poi vengono raccolte e reinviate presso le aziende che le riciclano e che diventano poi delle altre bottiglie sempre per contenere gli stessi liquidi alimentari. Importante perché il cittadino può conferire direttamente queste macchine al punto vendita di Deku e con un certo quantitativo di bottiglie conferite ha un buono sconto importante quindi ha un premio per un comportamento etico e a favore dell'ambiente. Molte le aziende che hanno deciso di aderire al progetto della raccolta a favore dell'ambiente che riduce al minimo l'impatto dell'inquinamento sulla terra e sull'aria. Un progetto fortemente portato avanti dai Maxi Store Deku. Noi come Ferrarelle abbiamo avuto veramente l'orgoglio e il piacere di consorziarsi in questo CoriPet in quanto pensiamo che sia la risposta intelligente e sostenibile per poter recuperare le bottiglie dopo l'utilizzo quelle dell'acqua minerale. Questo è un sistema di incentivazione fatto da Multicedi dalla nostra azienda in collaborazione con De Fornitori Sponsor che può utilizzare, visto anche il momento del mercato verso il cliente, un sistema di incentivazione per utilizzarlo per la propria spesa familiare. Adesso la linea torna alla regia per una breve pausa pubblicitaria e noi ci ritroviamo subito dopo per parlare di sport. Ben ritrovati in studio con la nostra pagina sportiva giornata importantissima per il Napoli. Stasera gli azzurri saranno infatti in campo allo Stadio San Paolo contro l'impresa Arsenal, ovvero l'impresa di Champions. Il Napoli dovrà superare di misura gli avversari per restare proprio nel giro nella conferenza stampa di Benitez ieri a Castelvolturno. Benitez si è detto abbastanza sicuro, si è detto abbastanza forte la carica degli azzurri, ha detto non manca in forse però il portiere Reina, mentre in campo ci sarà sicuramente Berami. Sentiamo proprio le parole di Benitez. So perfettamente che qui bisogna fare le domande e non dare la propria opinione, però dico velocemente che io sono perfettamente d'accordo con te, quindi dico la mia opinione sul fatto che non cambi modulo, però tanti stanno dicendo a Benitez perché non si passa al 433, dicendo che questa potrebbe essere la soluzione di qualche problema del Napoli. Quindi ti invito a spiegare bene perché non fai questa cosa. Provo a spiegarlo in italiano che non è facile. Credo che l'ho fatto una volta, ma lo dico un'altra volta. un papà che camminava con il suo figlio, con un assino e da fronte trova un giornalista e dice guarda queste due che camminano, hanno un assino perché non va uno sopra l'assino e così si fatica meno. Il papà che lo sente dice va bene, io vado sopra l'assino e un altro giornalista dice guarda questo è il papà che va nell'assino e il suo figlio cammina, poverino e il papà dice è vero, è il mio figlio all'assino e io cammino e un altro che arriva e dice questo bambino, giovane e il suo papà camminando che cosa facciamo? Dice il papà è vero, andiamo tutti e due nell'assino e un altro che arriva e dice guarda queste due poveri assino tutte e due perché non camminano, che facciamo alla fine? Lo che noi sappiamo che dobbiamo fare che è lo che guardiamo ogni allenamento, la squadra, lo che abbiamo e alla fine decidiamo noi perché abbiamo fiducia in noi stessi. L'aveva contato prima? No, è la prima volta. Sappiamo tutti che dipende molto da te, il tuo stato di forma è fondamentale per le tue prestazioni, dipende poco sia dagli avversari che dai compagni, però ti chiedo quali differenze ci sono, visto che la media realizzativa tua in questo momento è molto più alta nel fatto di giocare con un calciatore che fa i movimenti come Iguain rispetto a quando giocavi con un calciatore che faceva i movimenti che faceva Cavani? Sicuramente giocare con un giocatore come Iguain è fondamentale perché ti apre tanti spazi, fa tanti movimenti e sicuramente la seconda punta si trova molto meglio però come detto prima per me non è importante chi fa gol, è importante che la squadra fa bene e dobbiamo noi davanti aiutare anche da dietro, speriamo di farlo il meglio possibile come si aspettano tutti di fare gol di noi attaccanti però come detto prima non è importante chi fa gol, è importante vincere la partita. Credo che loro sono una squadra che hanno qualità, che hanno velocità per la ripartenza io conosco Arsene Beng, è un allenatore che le piace chiaramente avere il possesso di palla ma alla stessa volta sai che sono forte nella ripartenza questo significa che noi dobbiamo attaccare? Sì, dobbiamo attaccare senza avere questo equilibrio che parliamo sempre? No, dobbiamo trovarlo, dobbiamo essere capaci di pressare, di paleggiare di fare le cose che abbiamo fatto all'inizio molto bene contro una squadra fortissima ma dobbiamo provare Ma no, noi siamo concentrati sul lavoro stiamo preparando benissimo questa partita dall'esterno non interessa niente adesso stiamo pensando solo ad Arsenal e speriamo di fare la nostra partita, di fare bene e di portare tre punti a casa e poi si vedrà se si può passare il turno o no però secondo me noi stiamo facendo una grandissima Champions siamo in nove punti e non siamo ancora qualificati che mi sembra un po' strano però calcio è questo e niente, speriamo di fare bene e di fare contenta dei nostri tifosi Iguain è un giocatore molto pericoloso va controllato, più lontano lo teniamo dall'aria meglio sarà Arsena Wenger parla così del match di questa sera quando gli azzurri sfideranno l'Arsenal al San Paolo e si concentra sul bomber argentino tra l'altro a lungo cercato dall'Arsenal la scorsa estate che questa sera tenterà di guidare il Napoli nell'impresa Champions l'allenatore dell'Arsenal non teme nemmeno l'atmosfera che troverà questa sera a fuori grotta e con questo si chiude l'edizione delle 13.30 di Otto News grazie per averci seguito buona giornata